Mancano poche ore all'evento Agrigento Jazz Festival. Questa sera, ai piedi del Tempio di Giunone, si apre il ricco programma elaborato da Menulavir di eventi, con il concerto di Francesco Buzzurro e Giuseppe Milici. Sono stati giorni intensi per l'organizzazione, che ha preparato nei particolari le quattro serate. Stasera, quindi, spazzo alla chitarra e all'armonica del duo Buzzurro e Milici, che ripercorreranno i brani che hanno fatto la storia della musica jazz. Domani sera, invece, il festival propone il concerto del trio composto da Danilo Rea, celebre pianista di grandi cantatori italiani, che sarà accompagnato da Arest Tavolazzi e David King. Il 2 agosto sarà la volta dello spettacolo Now vs. Now, del musicista americano Jason Leinmer. A chiudere al Degento Jazz Festival, il concerto del Roberto Gatto Quartet. L'orario d'inizio, previsto per tutti i concerti, è per le ore 21. Prima, però, gli spettatori potranno soffrire di un happy hour curato da aziende locali, partner della manifestazione. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono chiamare i numeri 329 80 22 706 389 93 53 851. Grazie mille per il schottot posto。 Grazie mille per il country意immense. Grazie mille per il ch